Un vasto rogo è divampato nel cuore di questa domenica alle porte di Grosseto in località Cernaia. La colonna di fumo che si è alzata dall'incendio era visibile da molta distanza suscitando preoccupazione e paura tra gli abitanti del capoluogo Maremma. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, hanno operato alcune squadre del volontariato Vigilanza Antincendi Boschivi di Castiglione della Pescaia e Follonica. Alcune strade sono state chiuse dalla municipale per permettere le operazioni di spegnimento. In supporto alle squadre di terra ha anche l'elicottero. L'incendio ha interessato la zona dell'argine dell'ex diversivo e campi di sterpali. Gli animali del centro militare veterinario sono stati messi tutti in sano. Distrutti decine e decine di ettari di terreni coltivati e due depositi di rotoballe che erano state sistemate pochi giorni fa. Non ancora chiare le cause dell'incendio.